La finanza decentralizzata DeFi è un nuovo ecosistema tecnologico e finanziario che per mezzo di un insieme di protocolli informatici all'apice del network decentralizzati sulla blockchain ha lo scopo di rendere trasparente, sicura e democratica proprio la finanza tradizionale. Andiamo a dire più nel dettaglio qualche caratteristica, intanto cominciamo col dire quanto vale oggi la finanza decentralizzata, vale circa 3 miliardi di dollari e a questo proposito Nasdaq ha deciso di creare un indice per tenere traccia dei maggiori prodotti DeFi, in questo momento esistono circa 200 progetti, il 90% sfrutta la rete Ethereum. In altre parole questa non è una semplice tecnologia ma è un nuovo approccio all'uso degli strumenti finanziari che sfrutta proprio tecniche e tecnologie informatiche recenti per evolvere come dicevamo in apertura gli strumenti finanziari tradizionali. Siamo in poche parole nell'ambito della tecno finanza o per come la chiama qualcuno nella fintech e si sta evolvendo in modo velocissimo, pensate che davvero siamo solo agli inizi, quindi la finanza decentralizzata che cos'è? È anzitutto un movimento, di che tipo? Socioeconomico, perché le persone hanno dei reali interessi economici, ma cerchiamo di capirne di più. Federico Izzi, cos'è la finanza decentralizzata e soprattutto a cosa serve? Grazie Emanuela e ben ritrovati. Beh in gran parte l'hai già accennato tu, la finanza decentralizzata, la DeFi, così anche nel termine tecnico conosciuta, non fa altro che riprodurre quella che noi già conosciamo in ambito finanziario tradizionale. Ad esempio pochi decenni fa era riservato solamente alle banche, così alle istituzioni finanziarie, più recentemente è il passaggio al ramo fintech ed ora viene definita anche open finance, perciò un terzo passaggio successivo e c'è un cambio di paradigma, così lo possiamo indicare, cioè facendo un parallelismo con quanto è accaduto circa poco più di dieci anni fa con l'informazione e la comunicazione che prima conoscevamo appunto solo sotto l'aspetto televisivo del mainstream, comunque cartaceo, c'è stato poi l'evoluzione nel digitale ed ecco oggi possiamo indicare che sta avvenendo proprio questo. Noi finora eravamo abituati comunque a scambiare anche comunicazioni, così come foto e detto poco fa anche le informazioni in ambito digitale, l'ultimo passaggio, quello che oltretutto definirei cruciale, era quello proprio del trasferimento di valore, trasferimento di denaro, questo l'ho aperto poco più di dieci anni fa, l'avvento del bitcoin, ma sotto l'aspetto tecnologico, comunque sempre in ambito finanziario, conoscevamo, abbiamo conosciuto sinora solo l'aspetto diciamo definito analogico, non c'era ancora stato il passaggio alla digitale ed oggi è quello che infatti sta avvenendo, sta avvenendo in una maniera anche come l'hai indicato tu, anche esponenziale, è iniziato i primi sviluppi, le prime dap così appunto indicate per l'utilizzo di questa finanza decentralizzata alternativa digitale nel 2018, se ne è iniziato anche a fare un utilizzo nel 2019, però sono proprio gli ultimi mesi che stanno vedendo questa esplosione, un'esplosione che ha visto sotto l'aspetto appunto del capitale bloccato per l'utilizzo di questa finanza decentralizzata, passare ad esempio nel luglio del 2019 a poco più di 500 milioni e come hai indicato tu, oggi stiamo parlando di un valore moltiplicato per 6. Gli aspetti che si differenziano dalla finanza tradizionale sono molteplici, però quelli più principali indicherei come un accesso equo che perciò non conosce i confini e oltretutto non ci sono barriere e anche sotto l'aspetto di censura e manipolazione è aperto, basta infatti avere una connessione dati internet e l'accesso a un'app, a una dap e i requisiti che in questo momento fino a poco fa comunque davano come un collaterale un token o comunque una proprietà digitale così comunemente indicata in criptovaluta e oggi questo sta a fare un ulteriore passaggio che addirittura per alcune applicazioni non si richiederebbe neanche un sottostante. Certo è che siamo agli inizi perciò ci sono ancora degli angoli grigi ma indubbiamente questo porterà a una maggiore evoluzione. Quindi avete sentito quali sono i numeri che appartengono proprio alla DeFi, alla finanza decentralizzata? Siamo solo agli inizi? È vero, lo abbiamo detto subito, ma all'interno di questo mondo tutto è in evoluzione continua. A questo punto Federico cerchiamo di capire che cosa dobbiamo aspettarci dal futuro. Come hai detto tu si evolve in maniera molto veloce. Quello che ci si può aspettare è considerato anche i capitali, nonostante sia un mercato ancora molto piccolo, i capitali che stanno entrando velocemente, questo sta aprendo necessariamente nuovi modelli di business che questi sono in particolare al momento incentrati su operatori storici, ad esempio ecco come dicevo prima le banche, così appunto i gestori patrimoniali finanziari e nuove start up che non solamente si occupano di finanza. Perciò è un mondo in continua evoluzione che vedrà concentrarsi l'attenzione sia della vecchia che della nuova finanza. Quindi ecco qui la finanza decentralizzata in una manciata di minuti spiegata in modo, quindi semplicissimo grazie per l'aiuto a Federico Izzi. Grazie a te Emanuela, grazie a voi. Grazie a voi e alla prossima pillola.